Che cosa fa un DevOps Engineer? Che cosa deve sapere? Quali strumenti utilizza? E perché è una delle figure più pagate sul mercato IT in questo periodo? Io sono Michele, lavoro nel mondo DevOps da circa 10 anni e sono qui per rispondere a tutte queste domande. Vediamo una panoramica dall'inizio alla fine di quali sono gli strumenti e le metodologie che un DevOps Engineer deve sapere applicare tutti i giorni. Per avere le idee più chiare facciamo qualche disegnetto che sono le mie cose preferite. Un DevOps Engineer deve conoscere a me ne dito quello che sono tutte le pratiche dell'Application Lifecycle Management in gergo detto anche ALM, Application Lifecycle Management, quindi la gestione del ciclo di vita di un'applicazione e di tutte le pratiche dello sviluppo, di raccolta requisiti e rilascio in produzione che girano intorno alla scrittura del codice. Quindi facciamo una panoramica completa dall'inizio alla fine di tutte queste pratiche e tecnologie. Ci facciamo guidare da una freccia che rappresenta alla sinistra un'idea, una feature, una funzionalità, un bug fix che noi vogliamo sistemare e alla fine sulla destra abbiamo i nostri utenti finali e mentre la nostra feature, bug fix, attraversa questa linea che rappresenta il nostro processo si trasforma in valore per il nostro utente finale che lo percepirà attraverso un software magari molto resiliente che non va mai giù, delle funzionalità particolarmente di qualità o molto interessanti da utilizzare. Qui come DevOps Engineer dobbiamo essere consapevoli di che cosa accade in fase di raccolta requisiti e abbiamo quindi quelli che sono la scrittura di user story quindi così user story oppure feature oppure il tracciamento dei bug e quindi un DevOps Engineer deve essere in grado di configurare e conoscere queste metodologie e configurare delle piattaforme come per esempio Jira o Azure DevOps che supportano il tracciamento dei requisiti, dei bug e così via spostandoci un po' più avanti abbiamo la fase di sviluppo, ovvero di sviluppo vero e proprio dove abbiamo i developer che prendono quelli che sono le nostre idee, i nostri requisiti codificati e scrivono codice nella loro workstation Qui un DevOps Engineer deve essere in grado di suggerire, configurare e adattare la strategia di gestione dei sorgenti in questo caso magari parliamo di un repository git per lavorare in team scegliere una branching strategy è una scelta importantissima che ha ripercussioni in tutto il processo di gestione del software e di rilascio in produzione ALM da questo punto prosegue come con delle pratiche di revisione del codice e di controllo qualità che in genere si eseguono con le pull requests e che è un dei processi automatizzati di continuous integration e continuous testing che andiamo a spostare il più a sinistra possibile nel nostro processo per avere un feedback, un principio importantissimo per le pratiche DevOps avere feedback sulla qualità di quello che facciamo e qui ci sono tanti strumenti a nostra disposizione come per esempio abbiamo i vari sonar cube per la qualità del codice e anche file di sicurezza abbiamo i vari mand white source e così via e un DevOps Engineer deve conoscere questi strumenti e adattarli alle esigenze del team oltre che incentivare ovviamente le pull requests e le revisioni del codice alla valle delle pull requests dopo aver validato il nostro codice abbiamo dei processi di nuovo di continuous integration che generano dei cosiddetti artefatti ovvero prendono il sorgente delle nostre applicazioni e lo trasformano in quello che deve essere un'applicazione web un'applicazione mobile una tradizionale applicativa Windows a seconda dell'ambito in cui lavoriamo e ovviamente dobbiamo riuscire già in questa fase di nuovo a lanciare dei test automatizzati tipicamente unit test quando questi processi automatizzati validano il nostro artefatto allora arriviamo nella fase successiva che è la fase di deployment la fase di deployment vuol dire prendere il nostro artefatto e traghettarlo nei vari ambienti che sono stati predisposti per fare ulteriori verifiche con ambienti di test sempre più mano a mano sempre più sofisticati e simili all'ambiente di produzione e quindi abbiamo per esempio il classico esempio abbiamo l'ambiente di dev abbiamo l'ambiente di staging o quality assurance e abbiamo poi la produzione ma qui la situazione si può complicare a piacere dove il nostro artefatto viene traghettato qui e qui ci possono succedere tantissime attività qui il DevOps Engineer deve sapere anche elementi di infrastructure as code quindi sapere configurare gli ambienti in maniera programmatica, automatica e ripetibile e abbiamo strumenti come Terraform, Ansible e così via che possono lavorare in questo senso idem per gli ambienti di quality assurance e produzione non dobbiamo dimenticare che tutti gli applicativi hanno bisogno di un database quindi dobbiamo essere a conoscenza di quali sono di qual è e di quali sono le tecnologie di storage non solo database ma magari anche caching cose del genere che nel nostro ambito vengono utilizzate e quindi promuovere pratiche di automazione anche per quanto riguarda la gestione del dato che di solito è sempre trascurata infine ma come per dire ultimo ma non ultimo anche qui negli ambienti di test sono importanti sempre appunto sono ambienti di test perché ci fare dobbiamo fare delle pratiche di testing più possibilmente automatiche e manuali il meno possibile e abbiamo i test di integrazione abbiamo i test di carico abbiamo gli stress test e un DevOps Engineer deve sapere quali fare in quale momento e in quale quantità sempre adattandosi alle esigenze del team infine abbiamo la produzione e in produzione il nostro software deve essere il migliore deve essere nella sua forma migliore ad arrivare qui solo se è passato tutti i nostri controlli qualità e siamo alla fine dell'application life cycle management voi direte no non è così perché da questo punto si ricomincia perché nelle tutte le nostre fasi abbiamo stiamo e dobbiamo implementare quello che è sempre il principio del feedback di DevOps cioè raccogliere dati monitorare migliorare noi stessi per migliorare i nostri processi e il nostro software e quindi iniettare i dati che raccogliamo dai vari ambienti e dal campo soprattutto perché non c'è nulla come la produzione e riportarli indietro nel nostro processo per migliorarlo e evolverlo continuamente un DevOps Engineer quindi deve essere molto consapevole di tutto il processo e di tutte le tecnologie e piattaforme che vengono utilizzate per seguire tutte queste pratiche DevOps dall'inizio alla fine non è quindi un ruolo dove saper scrivere script in Python per automatizzare è sufficiente anche se a volte alcune offerte di lavoro lo fanno sembrare così i DevOps Engineer più esperti hanno anche a che fare con strumenti quali Kubernetes per gestire ambienti di produzione e quindi ambienti containerizzati e così via e ovviamente senza dover tirare in campo quelli che sono la gestione dei cloud provider che forniscono gli ambienti on demand da quali per esempio Microsoft Azure Google Cloud Platform o AWS di Amazon quindi questo è il motivo per cui le figure dei DevOps Engineer sono tra le più pagate sul mercato perché richiedono una conoscenza trasversale molto ampia più che iper specifica in qualche ambito bisogna avere una consapevolezza molto ampia di una serie di strumenti e farli lavorare insieme tra di loro per supportare quelle che sono tutte le pratiche DevOps i DevOps Engineer sono figure chiave e possono aiutare un team veramente a fare la differenza in ogni stadio di creazione del valore in ogni stadio dell'application life cycle management quindi dalla raccolta dei requisiti a rilascio in produzione alla raccolta di dati e al feedback continuo e così via spero che questo video ti abbia chiarito le idee e risposte un po' a delle tue domande di cosa significa essere un DevOps Engineer e che cosa facciamo tutti i giorni se questo video ti è piaciuto o hai imparato qualcosa metti un mi piace iscriviti al canale così sarai notificato dell'arrivo di nuovi video ciao